Eeeh what day a tutti c'è ormai e benvenuti raggio carino in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human Vediamo ragazzi se riusciamo ad aggiungere almeno i 35 like per questo nuovo video E eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta ragazzi abbiamo fatto una vera proprio bomba con Marcus Che ha fatto il suo discorso alla nazione, non lo so, al mondo come si può intendere Per la questione insomma della libertà degli androidi eccetera eccetera Fatto sta che purtroppo l'opinione pubblica non sarà a nostro favore perché purtroppo mi è venuta la mazzana idea di ammazzare il dipendente della televisione Per cui bando alle ciance e torniamo qui da Connor, vediamo un po' cosa ci aspetta E' l'8 novembre Sono le 16.06, siamo di nuovo qua nel giardino zero, oddio no Adesso devo andare da Amanda di nuovo a farmi fare tipo il cazziatone Perché me sono fatta sfuggire pure quell'altro android del tipo mannaggia la pupazza che male ho fatto nella mia vita per sbagliare così tante cose in mezzo a sto gioco Non lo so ragazzi Fatto sta che mi avete detto che questo oggetto qua che avevo trovato l'altra volta sarà di fondamentale importanza Sembrerebbe più avanti, non ho la minima idea del motivo, sinceramente Esamina Non so se succederà di nuovo qualcosa Non so cosa fa sinceramente Fatto sta che Amanda è lì sulla barchetta, vuoi farti un giro in barca con me? Amanda, che fai? Ci provi con un android? Non posso, sono costantemente in servizio, non posso fare assolutamente niente Comunque questo posto è incantevole ragazzi Penso sia proprio il termine esatto, incantevole Sta arrivando Amanda, adesso ti porto a fare un bel giro in barca Salve Connor, pensavo gradissi una gita in barca Assolutamente, come hai fatto a capirlo? Mi hai letto nel pensiero? Amanda a fiducia in me? Davvero? Non l'avrei detto? Mi sgrida continuamente? Dai, ci tocca pure remare D'accordo, lo farò senza troppi problemi Ovviamente lei si fa trasportare, figurati Che bello l'ombrellino, è meraviglioso Ok, e di che cosa vogliamo parlare? Eh sì, anch'io dicevo, è incantevole Davvero Eh già Eh, Hank Il mio rapporto con il tenente Anderson è un po' problematico Continua a lottare con i suoi demoni interiori E questo compromette le sue facoltà di giudizio L'indagine è la sola cosa che conta Quanto sta succedendo è cruciale Lo so Amanda Né Anderson, né altri devono interferire Ok, non c'è bisogno di essere così aggressivi Stai tranquilla Amanda, risolverò tutto anche se E cosa dovrei dirti? Minchia, c'è un'opzione che non abbiamo potuto scoprire Turbato Turbato? No Certo che no Bene A quanto pare non le è piaciuta la nostra risposta Perché dovrei essere turbato? Non lo so, perché continui a lasciare i remi? Non c'è bisogno, continua a remare qua Non oseresti, conflittuale Eh scusa, ma mi girano eh Mi porterai a trasformarmi in deviante Questo è poco ma sicuro Sta accadendo Che cosa? Qualcosa di serio Madonna, che sei pure sensitiva Presto Connor Chi? Il tempo corre Lo so, è già tipo la seconda o la terza volta che me lo dici Uuuuh Proprio non dubita un attimo a farmi passare da Da un android assolutamente inutile E anche ci si rivede Non mi dice male Ecco Lo sapevo E che palle Meno male che sei cordiale Ah ecco ragazzi Ciao Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato Già Sì, lo sanno anche i muri E ora vogliono ficcarci il naso Perfino l'FBI vuole metterci in su No, no Stia fuori la fia Grazie Abbiamo i federali attaccati al culo È proprio una giornata di merda Uuuuh Ci siamo bene Un gruppo di quattro androidi Conoscevano il posto Ed erano molto ben organizzati Sto ancora cercando di capire Come abbiano fatto a non farsi notare Eh, si saranno mascherati forse Non ancora C'è troppo da fare È lì che dobbiamo andare Ragazzi Ci ricordiamo che Simon Aveva lasciato un'impronta Sul lato della porta E questo è il punto Allora Vediamo un po' cos'altro ci dice Niente Sì qua hanno neutralizzato I due tizi della sicurezza Ragazzi Questo ce lo ricordiamo Indaga sull'attacco Ascolta il briefing Ok Un addetto della stazione Colpito alle spalle Mentre cercava di scappare Lo so Proiettile dritto al cuore Da 50 metri Solo un androide Può avere una mira così precisa Continuiamo a girare lì Tra una piaga Come se già non mi fossi pentita Maledizione E quanti lavoravano qui? Solo due dipendenti E tre androidi I devianti hanno preso Gli umani in ostaggio E trasmesso il messaggio In diretta Poi sono scappati dal tetto Ok Il tetto? Sì hanno usato Dei paracadute Dobbiamo capire Dove sono atterrati Ma il tempo non aiuta Se vuoi dare un'occhiata Al video trasmesso dai devianti È su quello schermo laggiù Ok Sì lo vedo Ascolta il briefing Completato Perfetto Passa pure Hank Non ti farà problemi Eccoci qua Eccoci qua Bene Bene Salve Salve buon uomo E quello? Mi chiamo collega Allora Sono l'androide della Cyberlife Androidi che indagano su androidi Ma che vuoi? Si vuole di volere un androide tra i piedi Hank che dici? Che dici? Hank rispondi tu Scusa eh Ma come fuori dal caso? Uh È la mia scena del crimine Ah è la tua scena del crimine Z Che testa di cazzo Ecco L'hai detto Hank Lo adoro ragazzi Lo adoro troppo Allora Espezione alla sala di trasmissione Ok tenente Tanto riproduciamo il messaggio Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità Speranze e diritti Insieme Possiamo vivere in pace E costruire un futuro migliore per umani e androni Questo messaggio lo conosciamo L'abbiamo formulato noi Questo messaggio è la speranza di un popolo Voi ci avete creati E adesso è il momento di renderci liberi Credi si tratti di R-A9? No È impossibile che sia lui I cambianti credono che R-A9 li libererà Questo androide sembra della stessa idea Eh già Ok analizziamo gli indizi Che cavolo posso analizzare qua? Serie RK prototipo bla 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 Registrato come Marcus Donogli a Laja Kamski a Karl Manfred Ok Che è un occhio diverso dall'altro? Parte di ricambio E lo sappiamo bene ragazzi E questo invece Riflesso pupillare Il deviante aveva dei complici Ah Mitzik ha visto il riflesso degli altri compagni Dovrei sapere qualcosa? Sì Ho identificato modello e numero di serbe Dovrei sapere qualcosa? Ehm No Niente In che senso no? In che senso? Ehm E' strano ragazzi eh Che senso no? Vabbè direi che in caso di ispezionare meglio Sta cavolo di scena del crimine Allora Sto cappellino di chi sarà stato? Uniforme di manutenzione rubata Gli assalitori erano travestiti Ok Perfetto Almeno abbiamo potuto appurare Che erano travestiti Vediamo un po' qua Il discorso è stato filmato qui Esatto E questo è chiarissimo Dopodiché Simon non avrà lasciato impronte Perché le androidi non hanno impronte Ma ha lasciato una traccia del suo sangue ragazzi Sulla porta Questo era stato un dettaglio molto visibile insomma Ok Sangue blu fresco Seminazione scomparsa Bla 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 Ok Gli hanno sparato ragazzi Il deviante è stato colpito Questo è chiarissimo Che altro? Mi sfugge Qualcosa qua forse Vediamo un pochettino Ok Controlli Ah la sicurezza La registrazione sicurezza Eccoli qua Missicle Li hanno ripresi tutti ragazzi I devianti non hanno fatto irruzione No Siamo entrati semplicemente Non hanno fatto irruzione No nessun segno di effrazione Ci sono delle telecamere Lo staff avrebbe visto qualcosa Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? Eh Potremmo darsi Se c'erano le riprese Cioè avremmo visto che abbiamo messo K.O. due guardie Andiamo un po' Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina Non ci sono prove del loro coinvolgimento Ma non sapevamo che altro farci Ok direi che è il caso di andare a interrogare gli androidi ragazzi Non so Gli avranno fatto qualche magia Marco se li avrà toccati semplicemente No lo so Salve ragazzi Mi dite perché Gli avete fatti entrare? Lo sguardo come li scrunta Valuta le reazioni per trovare il deviante O Gesù Funzione Di cosa ti occupi? Sono un video operatore Non saprei ragazzi Dammi il tuo modello Modello JB300 Numero di serie 336 445 581 Come faccio a capire diagnostica? Esegui una diagnosi Sistemi operativi al 100% Proviamo con questo Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia È difficile ragazzi eh? Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo Come non ricordo? Ho paura di fare degli errori però Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi E non ha detto niente Quindi in questa stanza c'è un deviante E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta Grossa minaccia Se staranno cagando addosso ragazzi Non lo so Non lo so Cioè sono stati tutti e tre E hanno reagito tutti e tre nello stesso modo Però Boh proviamo con questo Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua Non lo so Non lo so ragazzi Verrai sicuramente disattivato Sonderemo la tua memoria E poi ti smantelleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla Stai per essere distrutto Mi hai capito? Era quell'altro Quell'altro ragazzi E quello a sinistra E quello a sinistra E quello a sinistra L'avevo percepito Avete visto che si è girato quando ho minacciato quest'altro? Sei tu Se decidi di confessare Forse posso convincere gli umani a non distruggerti Parla forza Parla cavolo Perché ti saresti girato se no? No son di la memoria No proviamo con un blef I devianti sono stati catturati Sì Siamo tutto Hanno fatto il tuo nome Non mentire Minchia resiste E che mi ha dato l'impressione Insomma E' lui E' lui ragazzi E' lui Guardate che ci sta guardando Vedete? Tortura Non credo che gli faccia del male Oddio no Ti conviene parlare Parla È lui ragazzi E' lui Lo so che è lui Oh Oh Porca miseria Oh No 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 Non voglio Non voglio che muoia Non voglio Cavolo Cioè ragazzi No 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 Non mi aspettavo che reagisse così No Cavolo Connor ti prego Voviti Ti prego Hank aiutami Hank Aiuto qualcuno Cavolo Hank Oddio ti prego muoviti Ti prego muoviti Connor Ti prego Prendilo 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 Che figlio di Che figlio di buona donna Prendetelo E fermatelo Oh No 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 Di Hank No Salva Hank Ah No 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 Ti prego no Per fortuna c'eri tu Altrimenti Connor No 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 Connor no 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 No, cazzo, no, no. Ok ragazzi, a quanto pare si può caricare il checkpoint. Io non posso continuare questa serie senza uno dei tre androidi, specialmente Connor, perché è quello che mi stava piacendo di più. Per cui rifarò la cosa, non mi interessa un cavolo. Non posso, ho fatto un errore madornale. C'è la possibilità di riparare i propri errori, a quanto pare, e io devo approfittare di questa possibilità ragazzi, perché non posso umanamente far morire Connor, non posso. Per cui interrogare le androidi sarà la cosa che proprio meno farò. Simon a quanto pare era nascosto, dobbiamo trovarlo ragazzi. Affanculo gli altri androidi! Ovviamente c'erano altre possibilità oltre quella di salvare Hank, ma è la cosa che istintivamente mi è venuta ragazzi, perché mi sono affezionata. Col cazzo che ci vado, no no no, interroga gli androidi un cazzo. Ok ragazzi, direi che è il caso di andare sul tetto. Al diavolo gli androidi in cucina, maledetti. Probabilmente sarà in pericolo comunque, spero in ogni caso di non fare lo stesso madornale errore che ho fatto poco fa. Ok. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a scoprire qui. Ah, Missica. Non è un nome nevica, oh. Sono arrivati in cima all'edificio. Hanno superato le guardie e sono saltati giù col paracadute. Dov'è che Simon aveva lasciato l'intorno? Una prestazione niente da me, cazzo. Ah, Missica, sotto ha lasciato il... Il... Come cavolo si dice? Ah, vediamo un po'. Sotto ho lasciato l'indizio del fatto che avevano sparato a qualche deviante. Cavolo. Perché oggi proprio non ci siamo, potemi vedere. Se torno un attimo di qua, analizzo questo dettaglio così magari non mi perdo altre robe. Mi hanno sparato qua, esatto. Perfetto. Adesso ho esaminato anche questo, posso tornare... Ah, ecco l'impronta, ragazzi. Però non... Non me la lascio esaminare, quindi probabilmente non è di tutta questa importanza. Per cui, torniamo di sopra e vediamo riscoprire i vari indizi sul tetto. Andiamo a... Ok, allora, qua c'è del sangue. Ed è chiarissimo. Sangue blu fresco. Vedete lo stesso modo che lo trovate, ovviamente. Che poi si è spostato. Quindi non è rimasto lì. Deviante è stato lasciato indietro. Segui le tracce di sangue blu. Io spero che Simon non ci spari in faccia, ragazzi. Perché aveva una pistola. Ma l'hanno fatto. È stato qualcun altro. Ma che strano. Un piano ben studiato, ma il numero dei paracadute non torna. Eh. Ne hanno lasciato uno indietro, infatti. Lo sappiamo benissimo. A meno che uno di loro non fosse rimasto indietro. Certo che è rimasto indietro. Qualche altro indizio c'è qui per terra. Le impronte. Analizzale un po'. Calzatore d'ordinanza era strappo. Solo tre devianti hanno saltato. Questo era chiarissimo. Per cui direi che è il caso di tornare un attimo indietro. Ah, qua c'è un altro indizio. Armi. E ce ne sono due. Ergo l'ultimo deviante. Quello che è rimasto indietro è armato. Perché l'abbiamo visto con i nostri occhi, ragazzi, che aveva una pistola in mano. Per cui, facendo la massima attenzione, cerchiamo di seguire le tracce di sangue blu. Che dove diavolo conducono? Dove cavolo sono le altre tracce di sangue blu? Ah, ecco qua. Qua ce n'è una. Là ce n'è un'altra. Si deve essere rinchiuso qua. Vediamo un po', raga. Manteniamo la calma. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Connor in questa missione è stato proprio maledetto. Sarà inutile. Proviamo a raggiungere il deviante, proviamo. Madonna, raga. Madonna, raga. Madonna, raga. È morto, è morto, ragazzi. State visto. Sì, 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 sì. Sto bene. Sì, sono ferito, ma sto bene. Si preoccupa per noi. Lo so. Ero connesso alla sua memoria. Ha sparato. L'ho sentito morire. Come se fossi io. Ho avuto paura. Ho visto qualcosa. Nella sua memoria. Una parola su un pezzo di ferro arrugginito. Genico. Ok, raga. Ho avuto paurissima di nuovo, eh. Ho avuto di nuovo super paura. Vi dirò la verità. Ispezione il corridoio, Mizzica. Cioè, ho lasciato tutto indietro. Praticamente, guardate un po' che roba. Comunque, qua è stato registrato il fatto che uno dei finali è che Connor si sacrifica per Enke. Fatto sta che, meno male, ho avuto un attimo la fermezza di seguire bene il quick time event per arrivare fino a Simon e non rimanerci secco come un baccalà. Ed Enke si è preoccupato per noi, che tenero, ragazzi. Allora, so che dovrei andare avanti, ragazzi, però, cioè, su questo episodio, insomma, mi ci sono dovuta soffermare. Avete visto tutti il motivo. Per cui, proseguiremo la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Obdosha a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete questi aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.